Consigliere Termini, una seduta tesa, tesissima possiamo dire, con lei che ha voluto distinguersi anche dal resto dell'opposizione, seppure poi di fatto allontanandosi dall'aula, anche lei ha contribuito all'abbassamento del quorum necessario per far passare il bilancio. Io ho ritenuto di distinguermi perché non ho condiviso buona parte di quello che poi si è deciso, perché è chiaro che per la prima parte il Consiglio Comunale è come se non si fosse svolto, sono state tutte sospensioni, quindi tutto è accaduto lontano dalle telecamere, lontano da tutto. In quelle sospensioni io ho espresso la mia volontà di continuare a bocciare questo bilancio, mentre poi il resto dell'opposizione, buona parte dell'opposizione, ha deciso di sostanzialmente votare l'immediata esecutività di questo bilancio, che io non potevo votare, quindi in bilico tra due posizioni, che sono quella di essere cinico tanto quanto Francesca Valenti e quindi rischiare anche di mandare a casa delle persone che avevano un lavoro e che non c'entravano niente con questa faccenda, e continuare invece a bocciare il bilancio, ho deciso di continuare a bocciarlo andandomene, mettendo però in rilievo il fatto che io non ho avallato la seconda parte del ragionamento, perché poi alla fine l'accordo non è stato sui precari, perché alla fine si è aperta una fase nuova. Lei non è d'accordo su questa nuova fase della politica, su questa disponibilità del sindaco, non solo a dialogare maggiormente con l'opposizione, ma addirittura a zerare la giunta, a valutare tutta una serie di ipotesi? Sì, io non sono stato d'accordo intanto sul fatto che qualcuno ha detto che ieri ci siamo riappropriati del nostro ruolo di consiglieri, invece secondo me è successo il contrario, perché non c'è stata la libertà di manifestare il proprio giudizio complessivo sugli atti. Però questa è stata la mia dichiarazione, altri si sono seduti a trattare con la Valenti, a trattare un azzeramento, un nuovo azzeramento che per me non ha senso, non serve alla città, perché non è questo il problema. Io ho detto che non è un problema di persone, è un problema di metodo, lo stesso metodo che non mi ha visto appoggiare al ballottaggio questa amministrazione, e quindi non accettare niente come incarichi. Quindi io continuerò a fare la mia opposizione intelligente e quando lunedì si aprirà ufficialmente questa fase nuova, la sedia con scritto Fabio Termine non ci sarà. Io continuerò a fare il mio ruolo perché penso... Ma non le interessa neanche dialogare con questa amministrazione? Anche il centrodestra a destra ha detto chiaramente noi non abbiamo a poltrone, non vogliamo assessorati, vogliamo soltanto aprire una fase di confronto nuova della politica. Guardi, ieri parte del centrodestra ha deciso di trattare con Francesca Valenti e proporre un azzeramento, cosa che Francesca Valenti probabilmente ha accettato, lo ha anche detto, chiaramente rimodulandolo nei contenuti e in tutto. Però io non sono d'accordo. Qualcuno ci ha chiesto perché lei non è rimasto in aula. L'ho spiegato. L'ho spiegato perché di fronte al cinismo di Francesca Valenti, ai capricci di Francesca Valenti, io in quella seduta ho deciso di abbandonare l'aula perché non mi ritengo di entrare in questa fase nuova, perché boccio, continuo a bocciare questo bilancio, ma abbandonando l'aula consento che gli atti vengano approvati, ma io non voto l'immediata esecutività perché io un singolo voto su questo bilancio, sia nell'approvazione che anche nell'immediata esecutività, che in quella fase significa approvare il bilancio, perché il bilancio senza immediata esecutività è come se non fosse stato approvato ieri sera. Quindi ieri sera votare l'immediata esecutività voleva dire votare il bilancio e io non l'ho votato questo bilancio.